Sì, la grande sfida che stiamo affrontando è quella per la direttiva europea, nel senso che la maggior parte dei parlamentari europei hanno deciso che si deve pagare il diritto d'autore, anche le grandi piattaforme digitali lo devono pagare e loro stanno cercando di non pagarlo. E allora noi faremo un incontro con i rappresentanti di tutti i partiti perché per sapere intanto chi dice che non va pagata, tutti i paesi più importanti europei hanno detto di sì, vogliamo sapere chi dice di no e per quale motivo. E vogliamo che tutto quanto sia ripreso da tutti i telegiornali perché almeno il 86% degli italiani che sono favorevoli alla direttiva europea sapranno chi dice di no.